...e la politica italiana è il giorno delle elezioni, il giorno in cui tutto nel governo potrebbe cambiare la forza di forza, l'idea, gli uomini senza troppo girarsi attorno e da un po' non si rimane mai oppresso cosa succederà se le uomini, se non andranno in un altro momento, non si mettono i risultati ...e il risultato del Parlamento, cioè Lega, primo partito con il 25 stelle molto indietro si pensa a questo da quando lo scenario di finire sotto il 20% è stato possibile, è stato approvabile come il livello politico che ha il primo partito che ha preso il 31% alle elezioni politiche ma dopo possa restare in sera con un risultato sotto il 20% ...e il primo partito tradizionale dato, per intenderci, di mai un posto di affidarsi di Salvini per le sue rassicurazioni sulla tenuta della vita, allora il capo politico ha pronto comunque un piano quando lo è libero e se c'è la rinnovazione è molto anticipata, perché questo piano alcuni inizi sono certificati negli occhi, in maggio delle ultime ore, uno, cioè diventato degli altri, quindi io ho detto chiaramente i suoi collaboratori, e l'ho detto al Presidente del Consiglio di Ciccerte Conte, 3, così, ci fa schiantare alle elezioni, comunque non sono più in contatto con le società giornalistiche, la vita quotidiana è sotto gli occhi di tutti di Ciccerte Conte, che la consiglierà, il conflitto di interesse, sulla financia di importare quel Consiglio di Ciccerte Conte, che rimane sullo spunto, e allora ai suoi uomini più sfidati del Consiglio di Ciccerte Conte, che rimane sullo spunto, il giorno dopo il voto, se Sabini muore, si può anche mettere il tesoro a scegliere, se lui ti invandrà, c'è meno così, Tria, il celluleviato, mi trovo, questo è, quindi adesso c'è un'attività, un'attività attività in particolare da Ilario Lombacco, a proposito di Giovanni Tria e gli in particolare la vostra Ranguia Lombacco, a proposito di Giovanni Tria e gli aiuto l'escritti di Giovanni Tria, perché la sua riguascia di Giovanni Tria e Giacchia